Luci spente e candele accese. Sarà questa la protesta che la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale attuerà giovedì 15 dicembre a partire dall'imbrunire, quando negli studi medici si spegneranno le lampadine e si accenderanno le candele. Nulla di romantico però, ma solo un gesto di protesta contro la dimenticanza del Governo di inserire i medici di Medicina Generale tra le categorie beneficiarie del decreto aiuti per il caro energie. A fronte di bollette triplicate per luce e gas, i bonus sono stati infatti contemplati per presidi sanitari, ospedali e poliambulatori, ma non per studi ambulatori dei medici di famiglia, che da eroi della pandemia si sono sentiti dimenticati. E' anche per questo dunque che la sanità territoriale giovedì 15 dicembre sarà in sciopero della luce, ma non del servizio, essenziale soprattutto in un periodo in cui i covid e virus stagionali stanno falcidiando la popolazione. Mauro Petrucci, segretario della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale per la provincia di Chieti, spiega al Tg8 le ragioni di questo sciopero insolito. Anche noi dobbiamo far fronte a quello che è l'aumento della spesa energetica che si sta rivelando diciamo abbastanza importante. Il Governo questa volta ha pensato a tutte le categorie tranne che a noi, con la differenza che noi è vero che siamo dei liberi professionisti, però abbiamo un rapporto di convenzionamento con lo Stato regolamentato dall'ACN per cui è come se fossimo poi dal punto di vista remunerativo come dei dipendenti. Quindi non possiamo nemmeno come gli altri veri libero professionisti a partita IVA adeguare eventualmente le tariffe a quelle che sono le esigenze delle spese per poterle coprire. Per cui ci ritroviamo a dover affrontare il problema della bolletta energetica. Siamo in piena campagna influenzale, quotidianamente assistiamo a tante persone che ammalano, il nostro senso di responsabilità ci ha portato a scegliere questa forma di protesta che può sembrare anche un po' folcloristica, ma probabilmente l'ispirazione forse è venuta anche dal Natale. Quindi quando gli altri accendono gli alberi noi accendiamo questa candela il 15 che vuole avere più di un significato, innanzitutto quello di dimostrare che noi nonostante tutto restiamo sul posto di lavoro e abbiamo scelto una forma di protesta che non ci fa abbandonare i nostri pazienti. E poi vuole essere anche, aggiungo io, una candela al ricordo dei nostri colleghi vittime del Covid, è un cero come si usa per chiedere una grazia affinché in futuro non dovremmo essere più dimenticati come spesso accade.